Ciao, buongiorno Ciao, buongiorno Oh, sto qua giù Che c'è, le lampadine? Eh, no, non vendiamo le lampadine Eh, perché a Mr. Shop pensavo c'avevi le luminarie E smerigliatrici invece? Eh, no, purtroppo non abbiamo Oh, invece questa? Oh, invece con questa ci posso tagliare ciocchi di legno? Buona, oh Ma che legna? Noi vendiamo fumetti Eh, vieni e fumo, eh, se vede Guarda come stai Ma come sto cosa? Vendiamo fumetti, manga, roba che si legge Sì, manga, senti, ma questa la voglio regalare a mia moglie E pure lì, là, ci puoi tagliare il prosciutto Ma che prosciutto, molla Tu cerchi la ferramenta, sta più avanti sulla strada Vabbè, se costa, carmo Vado più avanti, ho capito Te fumate meno, però, eh Allora, che c'è, le lampadine? Abrontolo, questa è una lavanderia Lei, vede che ce l'ho da fare